Tutti a saltare, l'arbitro guida che dice calma, state calmi, se no fischio, vi vedo, fa proprio il segno degli occhi, con Acerbi che però abbiamo detto vuole festeggiare il compleanno magari con un gol, vediamo se ci riesce, Paredes lo tiene, il trenino a cercare di liberare le posizioni, parte ancora Di Marco, stavolta direttamente in aria, il colpo di testa ancora della Roma in angolo e quindi ci riproverà l'Inter, calcio d'angolo ancora con tutti i difensori centrali che vanno lì a saltare. Cervi si stava lamentando con Di Marco perché voleva la palla prima, perché il taglio l'ha fatto, l'ha fatto anche bene e si era riuscito a liberare, solo che non gliel'ha messa subito. Eh sì, magari quando cambi allenatore, queste situazioni su palle inattive, magari i meccanismi li cambi un po' e potrebbe anche, anche se di solito vanno sull'uomo, così come stanno cercando di fare... Anche se ormai è un mese che c'è dei rossi, quindi... È vero, è vero, calcio d'angolo di Di Marco, palla al centro, respinge, Lukaku di testa ancora l'Inter, il gol proprio di Acerbi! Gol dell'Eylander! Che festeggia il compleanno con una palombella di testa, come già in Coppa Italia gli era capitato di fare, la respinta di Lukaku di testa sul calcio d'angolo di Di Marco. Rui Patrizio era un po' fuori dai pali, allora con una palombella dolce dolce Acerbi lo ha battuto. Inter in vantaggio al diciassettesimo minuto, Internazionale 1, Roma 0. Rivediamo tutto, Lukaku che... Bravissimo Lukaku! Tu dici che è un assist Lukaku. Vabbè ragazzi, questo è un assist palese. È involontario, è involontario. Devo dire che lui Patrizio non era veramente... No, certo che è involontario, però... È stato anche molto bravo Acerbi. Bravo Acerbi perché la mette nell'angolino alla sinistra di lui Patrizio. Lui Patrizio ha davanti non solo Turam, ma soprattutto Mancini. E quindi deve pensare a togliere Mancini dalla sua visuale. Acerbi poteva fare solo quello e lo fa molto bene, ma Lukaku ragazzi... Lukaku... Ma dici che sbaglia Lukaku qui? Attenzione c'è un check, vediamo perché. Vediamo il check. Per cosa potrebbe essere? Perché ha segnato l'Inter, quindi nel dubbio controllano. Beh, guarda, succede sempre alla Juve, anche questo. Quando c'è un gol della Juve... Ecco, per il discorso di Turam che era davanti a Rui Patrizio, però secondo me c'è Mancini. Potrebbe esserci un fuorigioco quindi? No, no, per il fatto che possa aver disturbato il portiere. Se non lo tocca, come vuole essere... No, ma infatti se... Vediamo. Ah, Rui Patrizio sta protestando molto. Però io ho visto più Mancini che stava tra Turam e Rui Patrizio. Sarebbe anche bello rivedere VAR, attenzione. Perché altrimenti non c'è spiegazione. L'unica può essere che c'è un giocatore in fuorigioco davanti a Rui Patrizio. Davanti al portiere. Vediamo se è così, però se va a vederla vuol dire che per chi sta al VAR è fuorigioco. Eh sì, infatti Turam è a fianco a Rui Patrizio quando colpisce ai cerbi. E tra l'altro secondo me lo disturba anche. Sì, perché i due si toccano. Vediamo se lo tocca. Sì, sì. No, però non lo tocca neanche. È Rui Patrizio che ci va. No, non lo tocca neanche ragazzi. È Rui Patrizio che va addosso a lui. Non lo tocca neanche, dai. Guarda che è Rui Patrizio che va verso Turam. Ma come fai a dire che attivo una roba del genere? Guarda, guarda, guarda. E con le braccia, vedi che lo tocca. Guarda. Ma dove? No, sì, lo tocca, Michele. Lo tocca, Michele. Dici di no, dite di no. Cioè per me è Rui Patrizio che va verso Turam e non è contrario. No, ok, però c'è comunque un giocatore in fuorigioco che anche se non c'entra nulla però va a toccare il portiere. Ma se io sono in fuorigioco non sto facendo niente. E sei tu che vieni addosso a me. È colpa tua, amico. Ma Turam non partecipa assolutamente a Turam all'azione. Vediamo cosa dice l'operato del portiere. Vediamo Guida che l'ha visto molto a lungo. Anche lui secondo me. Probabilmente deve capire quello. Gol, 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 gol confermato. Ragazzi Turam si disinteressa alla destra di Rui Patrizio. E Rui Patrizio va più su Mancini. Non so nemmeno se lo tocca, lo sfiora. Però se avessero dato il fallo sul portiere io sinceramente non mi sapevo. Non è fallo, Franco. Era fuorigioco, attivo, non fallo se fosse stato annullato. Lo infastidisce perché lì che poi non l'avrebbe mai preso Rui Patrizio, siamo d'accordo, ma il giocatore dell'Inter è attaccato. Allora tante proteste della Roma. Immagino che anche questa partita finirà nel calderone delle polemiche perché per la Roma vedete Pellegrini, Mancini stanno dicendo all'arbitro come fa a non essere fuorigioco attivo. Però anche qui in studio ci si divide. Secondo me il concetto che bisogna stabilire è questo. Se sei in traiettoria e ostacoli la visuale puoi anche non toccare e quello è attivo. E non lo è, escludiamo il nostro caso. Però non è questo caso. Qua c'è un giocatore che è a fianco al portiere. In fuorigioco. In fuorigioco. Ed è, per come la vedo io, è il portiere che va verso l'attaccante dell'Inter, verso Turam. Perché vuole allontanarlo? Non lo so per quale motivo. Però geograficamente Turam non fa niente per partecipare all'azione. Nella parata eventuale o nel tuffo. Allora Cerbi colpisce alla destra di Rui Patricio pallonetto verso sinistra. Lui ha davanti Mancini e a destra Turam. Nel voler vedere il pallone Turam non l'ostacola. Nel volersi tuffare a sinistra, Turam non l'ostacola. Turam non fa nessun passo a sinistra. Non capisco come fa essere attivo. Tu sai che basta una frazione di secondo per mandarti fuori dalla coordinazione. Sì, ma non è attivo proprio. Sapete perché dico questo? Se Rui Patricio avesse voluto andare verso destra. Cosa consiste ad essere attivo? Partecipare all'azione. Parteciparci. Lui non ha partecipato all'azione. È Rui Patricio che va addosso a lui per allontanarlo. Io infatti insisto sul fatto che possa aver creato una problematica al portiere della Roma per un eventuale intervento. La realtà è che comunque oggi c'è questa interpretazione. Ma io sono sicuro che stasera ce n'è un'altra. Ragazzi, se al VAR l'hanno mandato a fare un check perché vuol dire che per loro... Esatto. No, no, aspetta. Al VAR Federico funziona. Hanno segnalato che c'è una posizione non vista. Al VAR devono chiamarlo per forza perché è fuorigioco netto. Poi è l'arbitro che deve stabilire attivo o passivo, quindi lo devono chiamare per forza perché non possono loro dal VAR prendersi la responsabilità di dire attivo. Non è una novità perché magari stasera in Sassuolo Torino un episodio del genere viene valutato in maniera antipolica. La dinamica è obbligatoria, lo devono chiamare per forza a vedere perché loro non possono prendersi... è evidente. Adesso che il gol è stato dato, possiamo dire che l'intervento di testa di Lukaku a cercare di liberare l'area non è proprio il massimo. No, la poteva spazzare più forte, non c'è attenzione per ora la Roma in verticale con Acerbi che lascia Sommer che spazza via, un po' corta, era la palla e dovuto uscire al limite dell'aria il portiere svizzero dell'Inter. Adesso la Roma deve provare a fare qualcosa di più e devo dire Michele che se noi togliamo i primi due o tre minuti dove la Roma sembrava totalmente padrona del campo, mi sembra che adesso invece l'Inter stia facendo esattamente la partita che vuole. Sì, sì, ma anche un po' come hai detto tu, tra il quinto e il decimo, dal decimo nettamente l'Inter aveva provato anche proprio ad andare nella metà campo della Roma a cercare di prendere il pallino in mano. Poi ci sono stati due o tre calci d'angolo e su uno di questi la respinta di Lukaku di testa va proprio da Cervi che abbiamo detto è bravo a disegnare quella parabola e adesso è la Roma che ha un po' più di iniziativa ma non sta riuscendo a sfondare nella difesa dell'Inter centralmente e nel lateralmente. Adesso però c'è una punizione sulla tre quarti, la battono a spiovere in aria, attenzione il colpo di testa e arriva il pareggio della Roma con Mancini di testa al 28esimo, una punizione calciata dalla tre quarti che trova il numero 23 della Roma che batte troppo facilmente Sommer perché non è marcato adeguatamente il terzo gol di Mancini in questo campionato. il pareggio della Roma. Pareggio della Roma dunque Mancini di testa e la Roma va a trovare l'uno a uno in una bella partita devo dire perché in 28 minuti sono già successe due gol di testa di due difensioni. Nonostante il campo infame perché sta diluviando a Roma però questo è un gol dove oggettivamente lo rivediamo. Vediamo se è tutto buono intanto. Sì sì. La difesa dell'Inter lascia più o meno desiderare. Proprio Acerbi. Acerbi è partito con largo. Se l'è perso Acerbi eh Mancini passa proprio dietro. Eh sì. No no. Acerbi scappa perché ha paura di Lukaku però rompe la linea quindi tutti gli altri sono indietro. No però c'è allora è Pavard che se lo perde. Sì sì avete ragione Acerbi stava guardando Lukaku. È Pavard che si perde Mancini. Cioè io non capisco su una palla inattiva come si fa dei difensori così esperti. No oltretutto insomma Mancini è uno dei più pericolosi lo sai quindi Lukaku Mancini. Ma poi magari anche tenerlo con un po' più di malizia. Il difensore più vicino dell'Inter è almeno a un metro se non un metro e mezzo. No no partono insieme Mancini si inserisce Pavard guarda la palla e non guarda l'uomo. Ed è almeno a un metro e mezzo. Se Acerbi non parte prima degli altri sono tutti in fuorigioco. Ma forse è anche fuorigioco se Acerbi non parte. Però Acerbi parte però dai secondo me non puoi lasciare così per me più Pavard che Acerbi. Sì qui male oggettivamente. Poi su un calcio piazzato con la difesa completamente schierata. Poi da lì voglio dire cioè non è che può fare un cross. No lì può fare quello. Può metterla in mezzo cercando un colpitore di testa e così è andata infatti. L'Inter non prendeva gol da tanto. Su Acerbi parliamo del 2000 ormai 23 perché aveva preso gol col Verona. Anzi no col Verona non era sul rigore. Dal 6 gennaio attenzione all'Inter che riparte con Mkhitaryan che alza la testa la mette al centro. Ma c'è la difesa che ancora è ben piazzata. Mkhitaryan reclama un fallo. L'arbitro dice che si può proseguire. Spazza allora Mancini di testa. Roma che prova a ripartire anche bene con Cristante e Di Bala che vincono anche un rimpallo. Poi c'è ancora il raddoppio ma Di Bala è in mezzo a 2, in mezzo a 3. Il terzo lo ferma. Palla netta. Quindi riparte l'Inter con Barella che ha Di Marco a sinistra. Vediamo se gliela dà. Inquadrano Di Bala a terra. Ma l'Inter ha la palla e sta attaccando. Attenzione a Pavar che ha qualcosa da farsi perdonare. Allora se ne va. Sulla destra vediamo se mette un bel cross. Alza la testa. Il cross arriva sul secondo pallo. Non niente per nessuno ma un po' timoroso. Karsdorp la butta via in calcio d'angolo. Sì qui Karsdorp era da solo. Era solo perché è meglio così rispetto a quello che ha fatto Lukaku prima. Ah sì tu dici Lukaku l'ha da in avanti. Però sei cattivo con Lukaku. No sono cattivo. Ha spazzato e ha spazzato pure verso il lato. Ragazzi di solito si fa così. Ha spazzato l'alterale. È un assist perfetto. È perfetto. Gli è andato male. Però preferisco Karsdorp che è timoroso e piuttosto regala l'angolo. Però regali un angolo che può essere pericoloso. Quarto calcio d'angolo dell'Inter. Quarto calcio d'angolo su uno di questi quattro dei precedenti. Tre è arrivato il gol. Vediamo di ripeterci. Stavolta dalla destra di lui Patricio. Tutti a saltare. Vogliamo il gol di Pavar. Pavar che si deve far perdonare la marcatura. Ciavanoglu che scambia con Mkhitaryan. Lui il dribbling a rientrare. Perde però il pallone perché il passaggio era troppo corto. Ma l'Inter che riparte protestano i giocatori della Roma per un fallo in attacco. Guida li ascolta. Protesta anche Ciavanoglu perché dice ma fallo mio? Io non l'ho toccato dice Ciavanoglu. Ma insomma il passaggio era corto. Mi sembrava avesse fatto un dribbling. Difficile da capire. Vediamo. Ah perché lo trattiene ma neanche tanto. Oltretutto aveva già dato via la palla. Qua secondo me non c'era niente ragazzi. Sì anche a me. Lo tocca da dietro col braccio. Lo tocca da dietro col braccio. Sì ma aveva già dato via il pallone. Sì 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 l'aveva sbagliato. L'aveva sbagliato. Comunque riparte la Roma con Rui Patrizio che si prende qualche rischio partendo dal basso come ormai siamo abituati un po' tutte le squadre. E ora il fraseggio tra Paredes e Angeligno. Ancora un po' di rischio con il pressing di Ciavanoglu che va a prendere alto Paredes. Sono di rimpettai. Sono ormai questi duelli Cristante e Michitalian. Dall'altra parte c'è Pellegrini con Barella e appunto i centrali. Ciavanoglu con Paredes. Avanza la Roma. 32 minuti di gioco. Uno a uno il punteggio che è cambiato. Dopo il gol al diciassettesimo di Acerbi. Il pareggio di Mancini al ventottesimo. Due difensori. Tra l'altro secondo gol stagionale per Acerbi. e il terzo per Mancini che si potrebbero rivedere in coppia agli europei questa estate. Avanza ancora Mancini ma siamo ancora sulla linea del centrocampo. Quindi lontano dalla porta con l'Inter che fa buona guardia. Peccato davvero perché una difesa ermetica come quella dell'Inter che ha l'undicesimo gol subito stagionale. Quindi pochissimi. Si è fatta trovare impreparata su una situazione non difficile. Come diceva Emanuele. Uno fa il fuorigioco l'altro no. Non si difende così. Non si difende così. All'altro segnalo anche che c'era Darmian, ultimo uomo della linea che stava chiamando gli altri perché ne aveva due da marcare. Ma cosa fa Paredes? Paredes è semplicemente horror. Fa un'apertura in farlo laterale. Da solo. Come quando uno vuole buttare la palla perché c'è l'uomo a terra. Peccato che non c'era nessuno a terra. Lui non so chi ha visto. Ha visto un fantasma. Lui cercava l'impostazione. Non c'era nessuna maglia rossa dove lui ha tirato. Un'apertura che ho visto fare solo a Gargano quando ero all'Inter. Però, come direbbe Franco, sempre meglio che passare all'avversario. Attenzione all'Inter perché c'è Di Marco. Ora che la mette in mezzo, Pellegrini ancora in angolo. Quinto angolo per l'Inter con Farris che guarda molto attento. Vuole probabilmente un gol. Roma in vantaggio. Il tiro di El Sharawi contro piede della Roma. Il gol di El Sharawi al 45esimo. Roma in vantaggio. Vantaggio 2-1. Il gol di El Sharawi. Incredibile contropiede. Pellegrini per El Sharawi. Troppo facile. Difesa dell'Inter che non è attenta su questo contropiede con le preventive. Un po' di leggerezza dell'Inter sia nei passaggi offensivi ma anche in queste marcature preventive. Pellegrini ha alzato la testa. 4 contro 3. Lukaku si è portato via l'uomo. Sono andati a chiudere su Pellegrini. Pavar che quindi ha dovuto lasciare alle spalle El Sharawi. Il tiro traversa. Mi sembrava attraversa all'inizio ma la traversa è andata interna. Poi ha preso il palo interno e la palla è andata in porta. È incredibile. Traversa interna. Pallo interno. Gol. La prende. Non la prende bene. Cioè è chiaro che lui non vuole fare questo. Tra il collo e l'esterno esce fuori un tiro che sicuramente non voleva mettere lì. Però suggestivo. Il gol è bellissimo. Poi lo rivedi. Non voleva calciarli. Perché lui come ha detto Emanuele vuole la tocca con il destro e poi la calcia col sinistro. Esce questa traiettoria un po' svirgolata che colpisce proprio l'incrocio e poi il palo dall'altra parte. Poi il gol. All'inizio ho detto eravamo proprio sul jingle stavamo tornando in studio. Ho detto traversa. Perché la palla toccata dalla traversa sembrava andasse fuori dallo specchio. Invece palo interno, secondo legno interno e palla che va dentro. Però l'Inter non la vedo cattiva come al solito. Esatto. L'avevate detto. Già prima c'era stata la stessa situazione. Poi il Saravui non era riuscito a controllare. Ora Lautaro. Attenzione Mkhitaryan sulla sinistra se la allunga troppo. Infatti la palla forse la tiene in gioco ma la deve tirare in fallo laterale. Quindi ho rimessa per la Roma o fallo laterale. Ma comunque per la Roma. Tre minuti di recupero. Se ne è andato già il primo. Ancora due minuti di recupero per l'Inter. Per cercare di segnare. Ma ripeto è andata davanti. Ho visto un Inter che si è vista nel passato. Negli anni scorsi. Quando in... Nel mese di febbraio di solito. No ma no no no. Nessun calo fisico. In netto controllo. Già la buttali Emanuele. Rivede i vecchi fantasmi. Non calo fisico. In controllo. L'ho vista superficiale un po' presuntuosa. Perché con la Roma che si stava aprendo. C'erano stati calci d'angoli. Occasioni. Contropiedi. Spazi facili. Nel famoso derby in cui si gira a Girono. Esatto. Come quello. No ma il calo ci fu dopo. Il calutissimo. Possiamo dirlo che con la fase difensiva che ha l'Inter. Che ha mostrato fino ad oggi. Attenzione Mkhitaryan. Scusa palla in mezzo. È buona per Darmian che però è anticipato. Ma ancora Darmian che prova a recuperarla. Fallo dice Guida. Perché sembrava palla netta. Però questo è il calutissimo. In questo primo tempo top. Assolutamente. Ma questo però non è favore. Un altro dei giocatori che se vogliamo Mourinho aveva un po' messo da parte. Dopo. Dopo. Insomma grande protagonista di questa Roma di De Rossi. E Sharawi. Sì. Sì. No ma perché lo vedo a tutto campo. Come lo vedo io migliore in campo. Assolutamente sì. Il migliore in campo. Un minuto alla fine di questo primo tempo. Poi ovviamente ci scateneremo con i commenti. In questo momento. È chiaro la partita è ancora lunga. C'è un possibile rigore. Attenzione un check. Ma da che parlo. No niente niente. Dice Guida si può proseguire. Per un probabile fallo di mano. Non l'abbiamo neanche accorti. Non ce l'abbiamo neanche accorti. Non l'abbiamo neanche visto. Non ci siamo neanche accorti. Però il check è finito. Quindi non ce l'abbiamo. Sì no non è successo niente. Evidentemente un tocco lieve. Attenzione ora all'Inter. Perché la Roma concede spazi. Ma l'Inter non è precisa ridosso dell'aria. Mkhitaryan per Di Marco. Attenzione ancora da Mkhitaryan. Scivolata di Mancini. Che protesta. Un uomo della Roma a terra. Si sta molto innervosendo la partita. Guida dice no è caduto a terra. Paredes. Paredes sì. Vediamo. Vediamo se c'era stato un fallo. Ah il contatto con Lautaro. A centrocampo. Contrasto aereo. E calcio. Comunque il calcio d'angolo adesso lo fa battere o no? Perché scocca il terzo minuto. Ho paura che... Vabbè no l'ha fischiato prima del 43. Potrebbe farlo battere. Ma sai ci sono anche arbitri. Vediamo. Dovrebbe far battere perché l'ha fischiato molto prima. Poi ci sono state le proteste. Quindi dovrebbe finire a 30 secondi. Palla al centro. Attenzione perché c'è una trattenuta in aria. La protesta ora vehemente di Acerbi per un fallo su Lautaro. Vediamo. Vediamo un po'. Ancora Paredes Lautaro. Allora non lo prende. Va per terra per... Vediamo, vediamo. Qua si vede me. No, spinge Acerbi che poi fa cadere Lautaro. Sì però... Quindi niente, niente. No, non è niente. No, sembrava più... Se vedi dalla telecamera aerea, quella dall'alto, cioè Lautaro cade perché colpisce la schiena di Acerbi. No, esatto. C'è Paredes che allunga il pugno, come se volesse darglielo. Poi secondo me non lo prende, però ci prova. Comunque c'è il check in corso. No, niente, niente. Fa proseguire qui. Allora, Paredes ha spinto con le mani a Acerbi che ha toccato Lautaro che è caduto. Ma sono spinte che voglio dire, cioè in aria di rigore non mi sembrano rigori. Tra l'altro nemmeno così energico che rispecchia il primo tempo di Paredes. Ah beh, è un pugno a Lautaro, poi non lo prende. Gli dai il pugno, è un'altra storia. Ormai il recupero del recupero dovrebbe essere finito. Fallo laterale di Angeligno, ma qua finirà il primo tempo. Infatti Guida dice, finisce qua. Clamoroso, Inter sotto 2-1 all'Olimpico. Dopo essere passato in vantaggio con Acerbi al diciassettesimo, i gol di Mancini con una ingenuità della difesa dell'Inter. Punizione dalla tre quarti. Sbagliano o a fare il fuorigioco o a marcare e Mancini la mette dentro. Inter che poi cerca di andare a mettere la Roma nella propria aria. Parte un contropiede, difesa dell'Inter messa male e ne approfitta il Sharawi, Pellegrini lo serve. Il tiro, traversa interna, palo interno, entra in porta all'ultimo minuto del primo tempo. Roma 2-Inter 1. Allora, rivediamo un attimo la classifica che la regia aveva già mandato. Eccola qui. In questo momento, chiaramente, la situazione là davanti si ingarbuglia perché l'Inter in questo momento sta perdendo e è vero che ha una gara da recuperare. Però diciamo che questa è la classifica reale tra Inter e Juve considerando che entrambe adesso hanno lo stesso numero di partite. Quindi diciamo che in questo caso, insomma, la fuga dell'Inter, la possibile fuga dell'Inter, si fermerebbe. L'Inter resterebbe comunque con un vantaggio importante di 4 punti. però da un possibile più 7... No, più cazzo siamo stupiti, almeno guardando questo primo tempo dove poi sicuramente Michele darà i voti ma la fase difensiva dell'Inter veramente problematica. In questi primi 45 minuti, da voto bassissimo. Poi l'Inter ha talmente tanta forza, esuberanza, cambi in panchina che può rovesciare questo match. però i due gol presi, altro che se indicano quello che è stato fatto male in questo primo tempo e poi davanti, secondo me, l'Inter comunque qualcosa di interessante e di importante lo ha fatto. La fase difensiva veramente brutta. Ma sai che secondo me non è neanche la fase difensiva sul calcio piazzato, il primo gol? Sì. Beh, sul resto della partita, la ripartenza, guardate come nasce. Barella che sbaglia un passaggio in attacco. È un passaggio da qua a là fatto con sufficienza e lancia un contropiede. Ma tu sei in superiorità numerica. Se lo sei lì, nel momento in cui sbagli quel passaggio e tutti si stanno muovendo, quel passaggio è un passaggio facile perché si nasconde dietro l'uomo invece che andare davanti. Sì, certo. Lì parte un contropiede 4 contro 3 perché l'Inter tende a portare gli uomini davanti alla linea della palla. Se sbagli il passaggio facile, allora prendi. E quello è il vero problema. Sì, perché tu dai l'opportunità essendo anche un uomo di più. La sufficienza con cui arrivano solo a tre quarti in questa partita degli attaccanti. Poi lasciamo perdere come Sarawi mette in gol, ne abbiamo parlato. Secondo me è più casuale, non vuole metterla lì. Ma è alla fonte della ripartenza che c'è l'errore. Però l'hai concessa, ha ragione Emanuele. Comunque tu il pericolo l'hai lasciato. Poi dopo, è chiaro che dopo c'è anche la fortuna, c'è la bravura di Sarawi. Questo tipo di gol l'Inter l'ha presi a Torino con la Juve l'anno scorso, all'inizio del secondo terzo. L'ha preso... Guarda che se Vlaovic non sbaglia lo stop. Lo prendi lo stesso. Più o meno è la stessa azione. No, è molto diverso. Perché è diverso. Perché McKennie se ne va, fa la finta e Bastoni viene disorientato alla fine. Ma gli uomini ci sono. Sì, ma se ne va tra due. McKennie ha rotto un radocchio. Ma se ne va tra due McKennie in maniera troppo semplice, a parere mio. Poi qui c'è l'errore di Barella. Le preventive che non ci sono in più e il passaggio sbagliato in attacco troppo banale. Non c'è la marcatura preventiva sulla ripartenza. Facciamo gli up and down, Michele. Così diamo un po' di giudizio anche sui singoli. Andiamo nello specifico. Sì, gli up ce ne sono pochi. Metto a Cerbi 6,5 ma perché ha segnato. Altrimenti anche lui dietro. Non è che mi è piaciuto proprio tantissimo. Anche sul primo gol subito. Anche lui, sono d'accordo con Emanuele. Perché è un po' da dividere le responsabilità con Pavard. Quindi metto a Cerbi 6,5. 6,5? Sì, per me è troppo. Se consideri l'errore... Personalmente io darei la sufficienza visto anche il posizionamento sul gol. Perché io il gol considero più errore di Pavard. Per me il gol è più errore di Pavard perché non può lasciare completamente Mancini che va. Mentre a Cerbi aveva Lukaku. Quindi per me il gol è più Pavard. Per questo gli do... Comunque gli avrei dato 7. Siccome anche un po' la fase di difensiva abbassa a 6,5. Si sta perdendo l'Inter, Michele. Si sta perdendo. Gli app. Gli app. Sto facendo gli app. No, ma secondo me l'app... In questo caso io darei un 6. Ha segnato un difensore che segna. Ha fatto anche un gol difficilissimo di testa. Poi vai avanti. Poi do un paio di 6 perché non di più a Mkhitaryan che mi è parso il più lucido dei tre centrocampisti e a Di Marco che è andato a proporsi con continuità anche se non ha trovato insomma la precisione nel tiro. Di Marco e Mkhitaryan dalla parte sinistra gli do il 6. Quindi 6 per Mkhitaryan e Di Marco 6,5 invece per Acerbi. Per Acerbi, sì. Arriviamo invece alle note dolenti. Allora, alle note dolenti come dicevo per me la responsabilità sul primo gol è al 70-80% di Pavard che si perde Mancini. E in più sul secondo gol forse poteva temporeggiare un po' di più su Pellegrini anche se era un 4 contro 3. Comunque non bene gli do 5 a Pavard. Quindi Pavard 5. Sì. Poi gli do 5 anche a Barella che oltre a sbagliare quel passaggio mi è parso un po' superficiale. Ecco, non ho visto quella solita carica o meglio la carica ce l'ha però è andata a cadere nella frenesia e quando diventa frenetico sbaglia troppo. Non mi è piaciuto. E poi metto anche metto Turam 5,5 perché questa è la sua partita. La Roma lascia spazi ma non sta incidendo. Ti dà l'idea che può fare ma poi alla fine non fa. C'ha la Noglu? Sì, c'ha la Noglu tra il 5,5 e il 6 anche lui. Io sarei più verso il 5 in questo primo tempo. L'ho visto spesso fuori dal gioco. Ho visto un pochino mozzi un po' molle un po' più efficace. Io personalmente pensavo mettessi nei down la Cianoglu. Ma però anche tutte le azioni dell'Inter passano sempre dal Cianoglu mi sembra ha provato anche il tiro da fuori. Abbiamo detto quello di Sine è uno dei pochi che prova da fuori perché se aspetti Barelli e Michi italiani i centrocampisti tira solo Cianoglu. Però forse il tiro più peroculoso questa partita l'ha fatto Barelli quello deviato da Uizen in calcio d'angolo. Ah è vero quello centrale. Detto ciò Barelli secondo me i nomi ci stanno c'era lungo il problema se si potesse aggiungere lo metterei anche io nei down 5 e mezzo però sono d'accordo assente ingiustificato Turami in questa partita l'Inter in questo momento è come se giocasse si è visto una volta sola disturbando contro il portiere Rui Patrice nell'episodio del gol che Lautaro è sempre dentro la partita anche quando non incide Turami invece qualche fallo l'ha preso 51 a 49 il possesso per l'Inter 7 corner a 1 ma la Roma ha tirato di più nello specchio 3 a 1 e 5 tiri a 4 per la Roma totale quindi l'Inter anche se i cross a 1 quindi l'Inter ha fatto i cross i calci d'angoli la superiorità nella metà campo ma la Roma è stata più cinica a tirare nello specchio della porta perché i due gol e poi abbiamo detto anche l'occasione all'inizio e poi oltretutto è strano per una squadra solida come l'Inter andare sotto dopo che sei andato in vantaggio per primo prendendo quella tipologia di gol tra l'altro perché adesso stiamo rivedendo se non la dà il Sharawi Pellegrini il contropiede 4 contro 3 c'è Di Bala a destra cioè lui poteva scegliere la dà Di Bala a destra o la dà il Sharawi tutti e due solo perché tutto il centro campo è tagliato fuori da Marella che sbaglia il passaggio la tipologia di fase difensiva perché qui prendi un gol balordo come il primo diamo però anche 3 up della Roma perché io ho visto il Sharawi in assoluto il migliore mi è piaciuto anche Pellegrini che voto da resti al Sharawi Franco 7 7 in questo forse anche 7 e mezzo anche 7 e mezzo comunque il minimo è 7 Pellegrini ho visto Pellegrini 7 Pellegrini Mancini Pellegrini oggi lassi la posizione bellissima torniamo al discorso iniziale su come non facesse il Pellegrini con Murino è un dato di fatto è trasformato allora forse c'era anche non dico che non si impegnasse però Murino si lamentava che non stesse mai bene ma adesso sta molto bene adesso sta bene però Michele non è un caso che vada a Murino per le pellegrini e giocatuzze no però la cosa che mi sembra strano voglio dire che tu hai Pellegrini non è che c'è questo centrocampo giocavano Bove, Cristante e Paredes o Bove, Paredes e Cristante non è che se hai Pellegrini a disposizione Murino non è il tipo però vedi che non si lascia la collocazione che mette il Sharawi in attacco con il Pellegrini lui guadagna un uomo in più in attacco il Sharawi il Sharawi è in più al posto di un difensore per me oggi Murino avrebbe giocato con Bove probabile o Zaleschi o magari Zaleschi sì ma magari avrebbe giocato il Sharawi che non giocava mai dall'inizio a sinistra ma dico l'uomo che ha tolto per mettere il Sharawi è uno dei tre centrali proprio perché Murino giocava con Mancini non so Smoling non c'è mai Mancini Luorente e poi Uisen negli ultimi tempi comunque oltre abbiamo detto il Sharawi Mancini e Pellegrini io ho osservato in maniera particolare Uisen e gli do assolutamente un sei e mezzo mi dai il voto a Lukaku anche? Cinque e mezzo ma no ma dai io sono d'accordo cinque e mezzo cinque e mezzo cinque e mezzo perché no scusa mi sembra che abbia brillato in maniera risorbitante in questo primo tempo tutte le azioni pericolose però da uno come lui ci si aspetta un po' di più allora dico pericolosità non parlo del gol io dico da sei perché alla fine le azioni in cui la Roma toglie la pressione all'Inter passano da Lukaku che difende palla sempre lui che difende palla è una roba da uno che non paghi dieci milioni all'anno per farla perché lo fa tranquillamente ma da Lukaku però sembra che quando si è cambiata un po' la centralità di Lukaku cioè con Mourinho magari l'azione era finalizzata ad arrivare a Lukaku adesso Lukaku è quello che la inizia poi la fanno gli altri è vero quindi secondo me è lecito attendersi qualcosa di più concludo do un sei più a Uisen perché l'osservavo è un ragazzo sempre tranquillo sa sempre dove dare il pallone ma cosa c'è un diritto di riscatto Franco è un prestito secco fino al 30 giugno e poi torna quindi a luglio è vostro torna la Roma che sta già lavorando per provare a trattenerlo in qualche modo magari anche rinnovando il presto dietro un pagamento lì dovrà decidere la Juve ma se il giocatore è pronto io credo che la Juve l'anno prossimo è stato mandato a giocare perché in questo momento la Juve non avrebbe avuto tanto spazio perché lui voleva andare a giocare è stato lui a chiederlo ma ricordiamo un'altra cosa che allegri ma magari in una piccola qui invece ti hanno mandato alla Roma ti hanno mandato ha scelto lui di andare vuol dire che la Roma ti voleva però sì 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 la Juve l'aveva mandato al Prosinone era già tutto fatto poi lui riceve l'offerta della Roma e dice alla Juventus vabbè voglio giocarmela con la Roma che magari in Europa posso ancora e poi rimane fuori dalla lista però però le sta giocando sta giocando la titolare mi devo fermare ragazzi due minuti torniamo sta per ricominciare il secondo tempo e poi a questo punto dobbiamo anche capire un po' che secondo tempo sarà perché adesso è la Roma in vantaggio ed è l'Inter che deve fare la partita per recuperare per ribaltare questo risultato e ci sono anche gli spazi la Roma continua a concederli ma bisogna approfittare ancora fallo su Michi Italian che però ha tenuto troppo il pallone secondo me in questo caso poteva darla prima il professore attenzione all'Inter ancora la Roma messa male allora Barella può approfittare la dà a destra per Pavarra Pavarra il cross è buono Turam sì è svegliato è il 2 a 2 che arriva presto Marcus Turam gol Ticus è il nono gol in campionato l'undicesimo stagionale ha risposto alle nostre pagelle negative e la zampata con la Roma spaccata in due stranamente con il vantaggio della Roma concede il contropiede Barella a destra per Pavarra l'uomo assist gli uomini negativi del primo tempo la rimettono in piedi 2 a 2 dell'Inter vediamo se è tutto regolare Pellegrini è rimasto fermo meno male che Mancini qua tiene in gioco Pavarra e poi ancora Mancini tiene in gioco pure Turam si sono completamente dimenticati di Pavarra no di Darmian chi è sulla destra Pavarra il vero problema è Pellegrini che lascia andare Barella perché lì c'è palla verticale che taglia in due Barella può fare quello che vuole ma il centrocampo tu hai due terzini che sono ali hai Pellegrini nei centrocampisti che è un trequartista hai Esharawi Di Bale e Luca ma quanti giocatori offensivi ha va bene perché stai vincendo ma poi stai vincendo metti un po' più di equilibrio ma meglio per l'Inter meglio per l'Inter che può approfittarne dai ragazzi dai che è lunghissima sulla punizione hai visto che la scamaranza quello che è si sei sceso dal carro non ti voglio più sul carro via non la voglio più quella bandiera non ti voglio più sul carro lontana lontana allunga sta bandiera per favore allungala andiamola a vincere sei vittorie per l'Inter all'inizio di quest'anno era successo solo in altre due lontanissime occasioni anche se pareggiano ancora no dico finora sei quindi l'Inter adesso ha tutto il secondo tempo per inseguire il settimo sigillo Carsdorp riparte la Roma allora se De Rossi non interviene non mi dite che non è lui il problema in questo caso possiamo dire una cosa su Carsdorp perché sta lasciando franeria all'Inter adesso la mette fuori esce dal suo errore perché arriva dal pallone al giocatore dell'Inter e poi c'è il fallo sull'interno c'è la no clue che controlla c'era stata un po' un'incomprensione con Barella si chiariscono i due avanza l'Inter che ora va di nuovo testa bassa in avanti come nel primo tempo sull'1-1 ma attenzione alle preventive stavolta attenzione ragazzi alle preventive 53 gol per l'Inter 12 subiti comunque era forza ragazzi era Darmianna era Darmianna? eh allora avevo ragionato mi era Darmianna rettifichiamo l'assistman Darmian per Turam comunque sempre lo stesso tipo di azione con Barella che vede l'uomo libero a destra siccome Pavard era andato più volte molto libero cioè Darmian se ne erano completamente dimenticati il problema di fondo lì è che c'è il Sharawi che dovrebbe prendere però Pellegrini si dimentica Barella e quindi l'esterno lì è preso in mezzo cosa faccio? esco io esco tu vado io su Barella che ha la Barella è più pericoloso in quel momento perché ha la palla centralmente sulla trequarta e poi distribuirla esce e c'è il buco ancora Inter negli spazi larghi della Roma il cambio di campo dice la Noglu a cercare di Marco Karsdorp con una giocata coraggiosa la dà esterno-destro di prima Rui Patricio che rinvia lontano sui piedi di Bastoni ancora Inter che ora vuole accelerare Bastoni per Lautaro fallaccio ancora su Bastoni l'arbitro lascia proseguire poi vediamo se fa qualcosa prende un provvedimento dopo la fine dell'azione c'è Lautaro che la dà Mkhitaryan ancora Inter con Di Marco il palleggio dell'Inter ora la Roma è impaurita dietro peccato mi piaceva di più la Roma con la spocchia in avanti come diceva ieri De Rossi spocchia e spavalderia venite venite c'è Di Marco se difende così però ora tutti dietro la linea della palla con Cianoglu che la fa girare allora con Acerbi dall'altra parte qui sì per Pavard Turam che si deve girare a larga destra per Darmian un po' corto ma c'è Darmian per Turam rimpallo ancora Inter con Lautaro che però la colpisce schiacciandola troppo palla che rimbalza sul terreno e va tra le braccia di Rui Patricio 2 a 2 2 a 2 ma è lunga è lunga è lunga ragazzi la Roma ha accusato il colpo sul gol del pareggio c'è un replay da dietro porta dove c'è Uisen che chiama i compagni la palla già partita cioè erano tutti fermi e piantati e la Roma oggettivamente adesso dietro non mi sembra così efficace ora Di Balla che viene molto dietro proprio per cercare di mettere qualche uomo in più il problema è che lui va dietro quando la Roma la palla invece servirebbe che per la Roma andare dietro quando è in fase difensiva ma non chiamarlo lascialo lì lo lasciamo là lo lasciamo là e l'internet deve approfittare no io credo che De Rossi debba fare qualcosa in questo momento altro punto errore erroraccio ma fanno degli errori proprio gratuiti sì molto gratuiti ma poi non provocati c'è proprio errori marchiani ma io credo che ci sia anche un po' leggera giustificazione di questi errori ridicoli di Paredes adesso di Auso il campo sì perché è veramente una pioggia super battente dall'inizio della partita credo che adesso il pallone scivoli veramente via con facilità anche l'inter non è velocissima nel fraseggio anche se è una squadra abituata attenzione Bastoni che vede Turam lo serve a ridosso dell'aria ora c'è Mkhitaryan che si accentra sul destro no perché la dai a destra Barella ancora Lautaro allarga per Darmian il cross per Lautaro anticipato che peccato lì Mkhitaryan troppo altruista troppo altruista c'è Barella a limite dell'aria ne scarta uno no dice l'arbitro cerca il calcio di rigore in dribbling Barella eh quello lo voglio rivedere mi sembrava un dribbling secco quasi riuscito ma l'arbitro guida è stato convintissimo nel dire no a me sembra più lui che ha cercato l'avversario però se poi l'uomo non prende la palla rivediamola rivediamola attenzione Cialanoglu finte il tiro Turam ancora per Barella che se la fa togliere proprio al limite dell'aria Inter che però recupera la palla acqua Mkhitaryan su Lukaku che però non cade e va in contropiede e no fischia dopo scoppio ritardato ah no no non ha fischiato e infatti è così perché Lukaku non aveva assolutamente subito fallo all'inizio sì c'è Pellegrini a terra e anche un giocatore che però ora protesta Mancini anche ma assolutamente nel secondo tentativo l'Inter non aveva commesso fallo fatecelo rivedere no questo non ci interessa ci fanno vedere qui fallo eh ah no questo è fallo ragazzi secondo me lo tocca dietro no 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 è fallo è vero è vero lo stiamo rivedendo fallo eh secondo me lo tocca lo tocca sul tallone vediamo invece l'episodio di cui parlavate era fuori aria fallo netto su Barella ma fuori aria eh sì oh no no era fallo mi tira proprio il calcione fallo ma è fuori aria ma come fa guida veramente era fallo netto però hai ragione fuori aria e fuori ma come fa un arbitro dico una dinamica facile facile ha fatto il dribbling il giocatore della Roma scalcia perché non è che lo fa apposta ma manca proprio il pallone l'Inter che attacca Di Marco per Mkhitaryan il cross è buono Turam gol ancora lui Marcus o Di Marco o Di Marco andiamo a vedere ma di certo l'Inter la butta dentro per il 3 a 2 ribaltata in 10 minuti ancora un'ottima azione sulla fascia sinistra dove pende l'Inter sì e Marcus Turam a cui viene dato ora il gol decimo gol in campionato Marcus Turam si è svegliato la ribaltata l'Inter la prima doppietta stagionale al momento giusto ride ride Marcus e abbraccia Lautaro 2 a 3 la Roma balla in difesa balla in difesa e l'Inter balla sulla Roma 3 a 2 fatemi rivedere il non intervento del portiere della Roma perché buono vediamo un pochino bravo Michi che grande cross è un autogol di Angelino o di chiunque stava marcando Turam vediamo se è autogol come con la Roma forse no è gol suo è autogol ragazzi è autogol di Angelino come Gatti è saltato troppo strano per poter essere il gol suo è autogol di Angelino però pensavo non ci fosse arrivato l'interessore della Roma Turam dice no no io non l'ho toccata come con la Juve e quindi la prima doppietta è rinviata è rinviata è rinviata ragazzi dobbiamo fermarci andare in pubblicità però che Inter è in questo inizio di secondo tempo scusa Federico una cosa al volo perché sentivo qua fuori onda che c'è fattore fortuna questa non è fortuna perché Turam va sul pallone Angelino disperato non è un difensore perché De Rossi sceglie il terzino piccolo che cosa deve fare deve cercare di anticiparlo deve fare meglio non può fare una cosa del genere ma se 1-1-60 è 1-1-90 l'allenatore che mette il terzino su Turam stai vincendo 2-1 ma metti Bove prima e poi mi parlano del bollito che è andato via per mettere il giovane che sa come si fa quindi difendi Morino ma certo ma se ne prende 5 se continua così la Roma ma già dall'inizio del secondo tempo un atteggiamento suicida ma meglio per l'Inter più che altro la Roma da quando inizia il secondo tempo ancora l'inter il tiro da fuori il palo esterno di Pavard incredibile tiro dalla lunga distanza che numero Inter vicina al quarto gol Rui Patrizio dice dai ragazzi dai Pavard alla Maicon se la alza sul destro e poi di collo la fa partire molto forte la palla sul palo esterno Rui Patrizio non avrebbe potuto non fare niente dominio totale dell'Inter è come se la Roma nell'intervallo è uscita dal campo completamente finito di giocare l'Inter secondo me l'Inter che nell'intervallo ha fatto lo switch c'è stata anche una direzione prima l'angolo poi la pubblicità dai angolo stiamo con Michele incredibile calcio d'angolo per l'Inter perché non capisco come abbia fatto a toccarla la palla era sul palo comunque Cialanoglu palla al centro attenzione respinge Ausen di testa ma ancora l'Inter lì che una furia adesso la squadra nera azzurra in maglia bianca e sono partite tutte le scaravanzie la maglia del Drago ma sei stato tu a tirarle fuori e le abbiamo esorcizzate allora rieccoci attenzione perché c'è un problema per l'Inter a Cerbi si è fatto male Michele? eh sì si sta toccando il polpaccio se lo sta massaggiando si è tolto i parastinchi come per dire adesso deve uscire per forza e quindi credo che entrerà De Vrij abbiamo visto intanto già due cambi nella Roma dopo il 2 a 3 però Bove al posto di Cristante e il secondo cambio Spinazzola per Angeligno che si era fatto l'autogol sull'attacco di Turam il cross di Di Marco quindi ora Cerbi De Vrij credo che è una scelta obbligata è da valutare però l'entità di questo problema muscolare entra De Vrij confermato quindi centrale per centrale speriamo davvero sia uscito in tempo a Cerbi oggi compleanno gol partita anche l'infortunio si è automassaggiato però cammina benino e non ha fatto una smorfia di dolore no è vero potrebbe essersi fermato in tempo allora infatti perché sto vedendo che adesso senza i parastinchi ha subito diciamo allora Inzaghi e Acerbi veramente sono connessi perché Acerbi come Inzaghi come ha sentito qualcosa al di là se si è stirato o non stirato dice no esco perché non si rischia niente perché l'Inter comunque è un giocatore forte che può entrare e rendere poi Colpaccio è una zona delicatissima magari ha preso solo una botta e precauzionalmente ha preferito uscire secondo me è più una cosa muscolare però ripeto camminava bene cioè non era minimamente zoppicante diciamo che sarebbe un problema nell'ottica del tour de force adesso arriva la Champions attenzione ancora l'Inter con Di Marco break sulla tre quarti ancora Di Marco ha tutto il tempo per calciare respinto il suo tiro che però non è per niente preciso perché lì ci voleva un destro è stato molto indeciso la voleva passare alla fine dice vabbè se vi togliete tutti la difesa della Roma si è aperta ancora come il Marrosso tiro di sinistro ma ci ha battato respinto niente da fare ma la Roma si sta prendendo ragazzi dei rischi pazzeschi non c'è più pazzeschi così si gioca all'oratorio in difesa ragazzi all'oratorio ma non mi sembra che nemmeno in fase d'attacco la Roma stia facendo in fase d'attacco la palla quando va tra Lukaku di Baris hai visto adesso questa indecisione di nuovo il pallone sbagliato su uno scarico al compagno la Roma è proprio sparita dai monitor da inizio ripreso sai perché quando scegli di difendere fra virgolette perché poi non è che sia questa gran difesa in questo modo e attaccare in contropiede poi costringi gli attaccanti che sono quelli che fanno il lavoro di corso maggiore a spremersi tanto se vedi il Cerraue è calato ma quello che è calato più di tutti adesso ci smentirà farà il gol della vita è Di Bala Lukaku poco Di Bala che è il fulcro del gioco quello da cui passano Di Bala non si è mai visto oggi è quasi sparito del campo non si è mai visto poi adesso ci stupirà tutti e farà il gol della vita sì sì lui è uno che ha la giocata che non si può mai sottovalutare però secondo me Di Bala è anche uno di quelli che magari può soffrire il fatto del campo pesante il campo sai è uno che ha bisogno oggi non è la miglior partita di Di Bala anzi non si è praticamente mai visto è tra i peggiori della Roma però sai il primo tempo si faceva vedere era sempre in luce adesso io lo sto vedendo sto guardando particolarmente a lui però perdeva tanti palloni insomma Barella attenzione passaggio un po' corto ma arrivatura ma anche lui corto e allora l'Inter perde palla a centrocampo 65 minuti 30 secondi ventesimo ventunesimo del secondo tempo attenzione alla Roma stavolta attentissimo De Vraia chiudere che però si arrabbia e fa bene perché dice non dovete sbagliare questi passaggi a centrocampo è nato il 2-1 della Roma così e ce l'ha infatti con Barella che aveva fatto il passaggino corto a Turam e anche lui tra l'altro era arrivato un po' male su quel pallone un po' molle ora c'è Sommer la famosa partenza dal basso che io ho sempre un po' di paura anche se devo dire che Sommer quest'anno alterna rispetto all'anno scorso quest'anno si alterna molto di più la partenza dal basso e anche il lancio lungo ora l'Inter che però esce molto bene con Turam che fa respirare un po' la squadra la manovra e quindi Pavard per Cialanoglu diciamo che l'Inter ha visto il burrone ha visto la morte con gli occhi in questa partita però i primi 10 minuti del secondo tempo sono stati veramente da grande squadra proprio da chi ha il piglio ed è coinciso quella partenza forse da grande squadra con una Roma che è partita svagata sì e le pagelle gli up and down e di Michele hanno svegliato Marco Sturam che non ha fatto doppietta ma quasi un gol e mezzo guarda su questa palla il campo è tremendamente provato in quella parte esterna dove in questo momento l'Inter sta attaccando a destra l'ultima palla proprio si è visto la nuvola d'acqua che ha frenato il pallone palla in verticale per Turam che poi ha frenato ma infatti qua secondo me i cambi sono obbligatori nel senso De Vrij vabbè è stato il primo adesso ha ancora due slot magari da due giocatori l'uno e ripeto gli esterni sono quasi obbligati c'è Dunfris e Carlos Augusto che hanno grande fisicità poi potrebbe essere arrivata l'ora di Klassen come ha già detto Inzaghi da due partite poi gli ha fatto fare solo il recupero e il finale con la Juve e Barella è il primo indiziato secondo me a centrocampo vediamo anche Michi Itali hanno uno dei due ora di Marco sbaglia il passaggio per Barella che però corre ancora molto e bene c'ha la Noglu che va a recuperare una palla poi Lautaro lo aiuta allora l'Inter riparte attenzione perché la Roma riesce molto bene a chiudere qui Paredes ma ancora Inter che non si ferma assolutamente vuole chiudere la partita allora Barella per Di Marco Di Marco che però rallenta e la Roma fa in tempo a mettersi tutta dietro la linea della palla allora l'Inter torna dietro dai difensori ma adesso gestisce però con Di Bala e Lukaku non si può mai pensare di aver chiuso la partita con un solo gol in più quindi bisogna giocare per fare un altro gol visto anche che la Roma dietro balla balla la Roma soprattutto stupisce in questo frangente perché non ha più costruzione non ha più soluzioni e anche forse un po' a corto di benzina mi sembra fisicamente non stare benissimo ma abbiamo visto l'ultima azione tre minuti fa della Roma in attacco centrocampista con il pallone tra i piedi guarda le soluzioni fa un lancio lungo Pavar era uscito bene lancia il resta la Lusio dico io ma poi l'ha data male a Barella e ha concesso alla Roma questa ripartenza adesso prova a fare anche fallo alla fine il fallo arriva ma è di Cialanoglu e protestano i giocatori della Roma secondo me ha fischiato il fallo di Pavar non quello di Cialanoglu perché è resto di Pavar comunque il Sarawi è uno che ha chiesto ai suoi compagni di reagire ci sta fallo di Cialanoglu però ci sta qui niente diciamo di Trascendentale ricordo partita abbastanza corretta nel complesso è stato ammonito Mancini che ne meritava due in quei cinque minuti di Gialli ha scelto il secondo e se l'è cavata così Mancini stesso che è sempre in campo quindi deve stare molto attento Spinazzola per Anghelinio e Bove per Cristante le due scelte di De Rossi ora la punizione è battuta molto male dalla Roma dalla tre quarti dritta su Sommer che non ha difficoltà a fare su alla palla Di Bala oggi poi magari ci smentisce perché ha sempre la però fino adesso poco poco pochissimo e tra l'altro non con qualità e stupisce per le sue doti però oggettivamente Di Bala l'uomo in meno attenzione che l'Inter riparte ancora pericolosamente la Roma come sempre scoperta e quindi ora ci prova Darmian Barella per Darmian ma troppo all'indietro il passaggio e quindi la Roma si salva e ora prova anche a ripartire per Lukaku lanciato a tu per tu con Sommer Lukaku Sommer gli toglie il pallone da del sombra ai piedi grande uscita bassa se lo divora però Lukaku qui ragazzi se lo divora Lukaku poi venitemi a dire che io do i voti bassi a Lukaku qui Lukaku può fare quello che vuole non fa nulla se lo divora Romero Lukaku il pallone del 3 a 3 ma va anche Sommer no si però Lukaku non tira non dribbla oh dribbling di Sommer che poi si complica la vita bastoni spazzavia ma ragazzi ma calma Calma c'è Sommer che adesso si è messo a dribblare Lukaku adesso chiede troppo a se stesso prima però grandissima uscita bassa la palla che gli ha andato indietro è stato costretto a dribblarla perché c'aveva l'uomo addosso che cosa gli era di passi a fare lì però poi se l'è portata avanti ma tirala fuori se sei in ritardo però l'uscita bassa è molto bella gli rischi o te lo puoi prendere attenzione a Spinazzola che punta Barella ha il passo più veloce Lukaku di testa fuori Lukaku di testa molto fuori ci arriva prima di bastoni e lo rialza anche con sportività dice fallo chiede Lukaku all'arbitro no credo che non ci sia nulla un duello corretto molto duro quella sbuccia completamente di testa Spinazzola ha bruciato nello scatto ne è entrato Barella poi Lukaku ha battuto nello stacco non l'ha quasi neanche colpita Lukaku e anche questa per un attaccante del suo valore è un'occasione ragazzi qui il buco di Di Marco è in anticipo netto su Sommer Lukaku cosa fa? se la porta sul destino Sommer è stato bravissimo è stato bravissimo a coprire in pochissimo tempo con lo spazio non è dato neanche il tempo di riflettere poi sei un attaccante che viene pagato 10 milioni all'anno devi riflettere prima ancora che ti arriva la palla rivedendolo però Lukaku non può tirare lì no 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 deve saltarlo ma lui ha il pallone sul sinistro puoi toccarla di esterno e hai lo spazio il primo intervento di Sommer non è risolutivo la palla sbatte di nuovo su Lukaku e poi nel secondo intervento Sommer riesce a portargli la via chi ha avuto le idee estremamente nebbiose confuse attenzione ancora l'Inter che parte intanto stanno per entrare in tre Mkhitaryan per Di Marco Di Marco colza la testa per Turam troppo lungo il cross che peccato questa era una palla gol clamorosa se Di Marco calibra bene Turam è lì a ribadire facile intanto ci arrivano notizie dall'Inter l'indurimento al polpaccio destro per Acerbi quindi indurimento l'avevamo insomma non è uno stiramento può essere un piccolo sovraccare magari con la Salernitana salta e vediamo con l'Atletico Madrid il 20 mancano ancora 10 giorni intanto stanno per entrare i due che abbiamo detto Dunfis e Carlos Augusto più anche Arnautovic vediamo se uscirà Turam attenzione ancora Turam che smista per Darmian Darmian per Lautaro carica il destro il capitano e poi Cincischia troppo e se la fa togliere da Mancini però poi nel rimpallo ancora Lautaro che riesce a fare qualcosa di buono a recuperare palla quindi Di Marco Di Marco per Bastoni Bastoni ancora per Di Marco troppo lunga ma toccata da un giocatore della Roma Rui Patrizio la tiene in campo quindi non è angolo e devono ancora aspettare i tre dell'Inter per entrare non so forse anche ci potrebbe stare se Turam ce la fa nel campo aperto è più da togliere Lautaro ora Lautaro di testa riesce a recuperare un altro pallone diciamo che Lautaro è sempre dentro la partita toglie Turam sempre comunque quasi sempre sì è quella la scelta ora c'è Barella che dribbla a rientrare all'indietro c'ha la Noglu ancora Barella non la perdete lì c'ha la Noglu la alza per Di Marco sono le ultime azioni per Di Marco e Darmian poi entrano i due esterni freschi siamo al 74esimo c'è Bastoni a sinistra Bastoni all'indietro per Mkhitaryan ancora Barella Mkhitaryan palla all'indietro ora l'Inter palleggia con sicurezza ancora 1-2 1-2 tanti passaggi per arrivare a liberare al cross c'ha la Noglu a sinistra che la mette in mezzo per Lautaro 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 ancora Turam Lautaro sul sinistro se la fa togliere ancora e Lautaro oggi non è diciamo brillantissimo è più il lavoro ma anche con la Juve l'abbiamo visto più fare il difensore che l'attaccante e quindi magari un piccolo appannamento ha giocato sempre ora c'è un fallo in attacco dell'Inter fischia guida punizione per la Roma e ci sono i tre cambi per l'Inter che vi abbiamo preannunciato solo la curiosità di vedere Arnautovic se è al posto di Turam o di Lautaro forse come dice Emanuele più di Turam il classico cambio di Inzaghi perché Turam è uno che spende anche è vero anche Lautaro spende tantissimo però Turam fa più falcate più corse più strappi la Roma invece cambi non ne fa più Franco? al momento no esce Lautaro esce Lautaro quindi l'altra volta era uscito molto prima Turam quasi sempre prima Turam e quindi evidentemente è arrivato anche il tempo per Lautaro che sta iniziando un po' di appannamento magari anche con la saleritana secondo me Arnautovic titolare non so se al posto di Lautaro o di Turam ma potrebbe essere anche al posto di Lautaro per fargli riprendere un po' di brillantezza e di forza Lucasdorp palla al centro Sommer nessuno ha seguito la palla perché lì Casdorp la mette sul primo palo ma un attaccante deve tagliare ben per l'Inter che non ci sia nessuno Lukaku evidentemente è un po' stanco ora Carlos Augusto senti cosa ti dico tu hai definito difesa con la Brodo quello della Roma ma per come sta dipendendo l'Inter oggi siamo poco più su ma non tanto lontano partita allegra con tantissimi gol come nella tradizione pensate l'Inter ha segnato 294 gol alla Roma di più di tutti più redditi di tutti in Serie A anche perché la Roma ha fatto praticamente quasi sempre la Serie A però è una partita storicamente vado al 4-5 del 99 ma ce ne sono stati tanti 4-3 in Supercoppa oggi 2-3 solo 2-3 ma ancora non è finita e la Roma ovviamente non ci sta con gli ultimi cambi abbiamo detto Zalewski per Esciarawi ma anche Baldanzi per Pellegrini quindi prova il tutto per tutto De Rossi con tutti i giocatori offensivi c'è Zalewski c'è Baldanzi c'è lo stesso Lukaku che è ancora in campo Di Bala veramente una Roma super trazione anteriore per gli ultimi 8 minuti e 15 più recupero sempre 3-2 per l'Inter i gol di Acerbi al 17esimo Mancini al 28esimo il Sciarawi al 44esimo primo tempo 2-1 nei primi 10 minuti del secondo tempo Turam al 49esimo e poi l'autorete di Angeligno proprio sull'attacco di Turam il cross di Di Marco da sinistra 2-3 8 minuti da giocare Franco cosa può succedere ancora? Cosa ti aspetta? Cosa è una partita dove abbiamo visto di tutto però sinceramente la Roma non mi sembra così forte e ferrata e abbia tante energie davanti scusa Franco adesso c'è Mancini siamo arrivati già ridosso dell'aria Inter che ora si difende bassa Karlsdorp e Di Bala cercano di trovare lo spazio Di Bala inventa per Spinazzola ancora Baldanzi attenzione da sinistra la palla al centro pericolo e poi calcio d'angolo credo con Bastoni che anticipa Bove l'inserimento dell'altro subentrato a centrocampo uno dei primi Baldanzi che sta dando verba l'azione è entrato bene Baldanzi bravo qui Bastoni perché Bove aveva fatto passare il pallone l'aveva anche toccato ma Bastoni ci ha messo il piedone calcio d'angolo per la Roma dalla destra alla destra di Sommer palla al centro spazza l'Inter ma ancora Roma manca il pallone un giocatore il secondo il tiro la parata di Sommer non perfetta tecnicamente ma riesce a deviarla a sinistra forse addirittura in fallo laterale non credo che la palla sia andata sul fondo ce la fanno rivedere da dietro come nei videogame vediamo Arnautovic di testa la manca Zalewski arriva Spinazzola dritto per dritto palla molto centrale non la vede bene partire Sommer che mette i due pugni davanti anche perché il tiro comunque era forte il tiro forte poi terreno scivoloso quindi la palla può anche schizzare e l'Inter ha già recuperato perché evidentemente era un pallo laterale ma la Roma ha perso subito palla ora c'è Arnautovic che difende un buon pallone lancia però nel nulla dai Marco dai posso dire che Lukaku sul gol di Acerbi aveva respinto giusto verso l'esterno Arnautovic respinde verso centralissimo verso il tre paese della Roma che arriva a calciare aveva respinto giusto Lukaku però non con quella forza prepotente questo è chiaro ma credo che sulla partita il giudizio finale aspettiamo che termina gara su Lukaku pesino due occasioni clamorose quando hai dato il voto al primo tempo non c'era ancora non concretizzato da 5 e mezzo nel primo tempo seguiamo la partita adesso poi commenteremo Bala ridosso ancora dell'aria scambia con Lukaku che la stoppa male ma poi la recupera la dà all'indietro ancora Roma ora l'Inter che prova a difendere tutta in aria di rigore la deviazione palla fuori in angolo mamma mia ha rischiato si rischia qua ancora si rischia l'autogono non so se far o in zagli ma lì sulla sinistra della Roma bisogna fare qualcosa perché Varela ne sta perdendo sempre i tagli alle sue spalle forse un classe i cambi della Roma hanno prodotto il calcio d'angolo della Roma palla al centro Turam di testa la spazza via lontana ma ancora Roma che resta lì in attacco ora prova a destra attenzione il cross ancora per Lukaku anticipato da un altro giocatore giallorosso il tiro palla che rimane lì fallo fallo arbitro fallo fischia fischia guida dopo tre ore però c'era stata una spinta ha visto prima un po' come andava ora protesta il giocatore della Roma il fallo era netto Mancini protesta anche Baldanzi che fallo è dice Spinazzola anche Mancini ma adesso lo rivediamo di bala spinge Michiter perché Sommer nonisce su questa palla davanti l'uomo è in area piccola vai e spargli un pugno lontano alla palla c'è davanti Michiter la palla è bassa si ma portiere può usare le mani devi già essere di sopra la testa buttar via sta palla hai un'elevazione e una potenza diversa portiere può usare le mani si ma non è due metri Sommer però va detto che i cambi della Roma hanno portato energia più efervescenza Spine Spinazzola bene soprattutto questi due anche Zaleschi un po' tutti Baldanzi sì Baldanzi e Zaleschi hanno dato qualcosa di più ora l'Inter che prova a respirare a ripartire perché sta soffrendo negli ultimi minuti Barella in mezzo a 4 in mezzo a 3 alla fine lo rimpallano via e dice fallo guida sì punizione per l'Inter sulla tre quarti 86 minuti ne mancano 4 più recupero l'Inter ha un ultimo cambio e secondo me può anzi di solito in Zaleschi fa sempre 5 cambi è difficoltà perché non ci sono ammoniti quindi non sa chi cambiare sì ha confidato in settimana che è stata da tanti anni che non lasciava fino al novantesimo un giocatore ammonito come ha fatto con Mkhitaryan contro la Juventus perché di Mkhitaryan ti puoi fidare ecco entra Sanchez l'abbiamo chiamato esce Turam che alla fine merita il mio applauso perché le ho dato 5 e mezzo nel primo tempo ma mi ha risposto alla grande con un gol e un quasi secondo gol esce anche Di Bala 4 e mezzo oggi veramente 4 e mezzo spento entra Azmun direttamente dal dal Qatar eliminato con l'Iran un po' più di peso in aria magari no? vuole dei rossi per il finale la speranza è quella ma poi il trequartista ce l'ha la punizione è proprio dove l'ha battuta la Roma in occasione dell'1 a 1 di Mancini vediamo se sono polli come noi dietro Carlo Stagusto da quanto non segna? eh infatti allora palla in medal gol in Coppa Italia palla battuta troppo bassa però da Cialanoglu che oggi gli angoli le punizioni tutte troppo basse forse col terreno non riesce ad alzarla dai Bastoni che mi sta piacendo invece molto oggi Bastoni in aria ha salvato un paio di situazioni difficili ancora Sommer riparte per Mkhitaryan l'uomo ovunque che intelligentemente rallenta la manovra dice perché devo andare avanti sto vincendo e ora Bastoni che invece vuole andare a chiuderla 56 a 44 il possesso palla per l'Inter ora bravo ancora Bastoni a tenere questa palla in campo Sanchez che deve dare ora verve freschezza e anche saggezza tenere palla ragazzi Cialanoglu ormai la partita se si doveva chiudere si doveva chiudere prima adesso bisogna tenere palla due minuti più recupero Carlos Augusto Bastoni si alternano anche Bastoni e Carlos Augusto Bastoni grande subisce anche fallo gli dice chi è Karsdorp rialzati c'è anche Riccardo Ferri che incoraggia i compagni i compagni i giocatori dell'Inter in campo non c'è Inzaghi ma c'è tutto lo staff in panchina a partire da Massimiliano Farris così come Ferri Sanchez attenzione bravo Sanchez allargare a destra subisce fallo ma c'è la norma del vantaggio c'è Dunfris che a Roma segnò il suo primo gol il primo anno di Inzaghi Dunfris ancora Barella il tacco per Dunfris che può andare a crossare va sul fondo vediamo se la tiene in campo se guadagna un angolo niente rimessa e Dunfris con le mani nei capelli dice ma come ma come fa a essere rimessa l'ha anche lasciata ma io vi dico la verità do più ragioni all'arbitro qua mi sembrava che fosse però lo voglio rivedere Barella bravissimo a fare un tacco tunnel a Spinazzola e però non ci fanno vedere l'ultimo tocco la cosa bella era il tacco e il tunnel però la curiosità di capire se ha ragione Dunfris o no non ci fanno capire rimessa per la Roma come ovviamente guida a sentenza il recupero vi aspettate? 5 3, 4 e 5 le sostituzioni non più di 4 o 5 4 o 5 è stato anche il breve parentesi di Acervi per terra per l'inforza di un infatti forse più tendente al 5 che al 4 Roma che attacca che quindi ha ancora speranze perché l'ultimo minuto siamo entrati nell'ultimo minuto ma poi c'è il recupero c'è Mancini Roma tutta in avanti adesso anche con i difensori e Inter tutta dietro per difendere con le unghie e con i denti quello che sarebbe un vantaggio pesantissimo una vittoria pesantissima attenzione alla Roma ancora da sinistra palla in mezzo Spinazzola ne sta mettendo tante e al posto di Angeligno insomma evidentemente l'aveva visto veramente bene Angeligno con il Cagliari per confermarlo perché Spinazzola forse non aveva i 90 minuti però Spinazzola si rientrava molto bene rientra dall'infortunio però sta sta incidendo insomma in questa mezz'ora finale ora la Roma che deve però tornare dietro è un bel pressing di Arnautovic dai dai Arnautovic anche Sanchez che siete freschi andiamo a pressare arriva anche Carlos Augusto anche lui subentrato l'Inter che non vuole schiacciarsi dietro Sanchez che va a pressare ancora su Paredes bravo il nigno 5 minuti di recupero iniziati presi presi dice Emanuele e ora ancora Roma attenzione al genio di Baldanzi che già l'anno scorso ha punito l'Inter a San Siro ma anche la Juve quest'anno Baldanzi uguale per tutti come la legge speriamo che sia così anche stasera no speriamo di no Paredes per Spinazzola Spinazzola a sinistra si incarta perché il campo bagnato gli frena un po' la corsa ancora Zalewski che gira per Mancini ora tutti nell'area di rigore Mancini troppo forte si vede che non è un trequartista e quindi la dà un po' forte ma Baldanzi apprezza l'idea e dice grazie al compagno Roma che rimanda al prossimo tentativo un'azione offensiva perché l'Inter adesso può ripartire vediamo va da Dunfris che fresco Dunfris anticipa l'avversario subisce fallo bravo qua Dunfris sei entrato per questo è ammunizione per Hausen Hausen dice non so cosa vuole dire all'arbitro perché va in ritardo e quindi è nettamente giallo e punizione è questo che deve fare Dunfris e mi aspetto sempre più giallo infatti per Hausen mi aspetto un Dunfris in ascesa nelle prossime partite perché lui è tornato anche perché devi venderlo e quindi deve farsi vedere ma al di là di quello è per quello la realtà è quella sta giocando da due mesi la realtà è quella che dice Emanuele ho capito ma Dunfris è uno che era titolare prima quando stava bene era ho capito si è fatto male con il Napoli è stato però ha perso il posto non è giocato Sanchez e poi Darmiano può giocare sempre Sanchez che da terra riesce a rendersi utile attenzione Inter col pressing alto però non ci facciamo trovare scoperti dietro dai Arnautovic che sei fresco va al piccolo trotto tutti pressano e lui piccolo trotto piccolo trotto riparte la Roma due minuti se ne sono andati ne mancano tre ancora Karsdorp Inter che ora ritorna in modalità trincea tutti dietro dai Arnautovic però non puoi far assalire così il difensore Spinazzola palla in mezzo per Lukaku che lascia scorrere lunga per lui allora c'è Carlos Augusto l'imperatore che all'Olimpico è nel suo abito a te a Roma ora ancora Mancini attenzione è vero che eravamo fuori conto si l'aveva detto in pubblicità ci ho pensato anch'io ma dovevo dire in onda l'ho detto l'ho detto ancora l'imperatore per Sanchez doppio fallo ma l'Inter c'è con Sanchez per Arnautovic è tutto solo Bastoni al centro arriva Sanchez Bastoni il tiro gol e l'Inter la chiude 4 a 2 2 a 4 con i gol di Alessandro Bastoni che come Berti a Monaco prosegue la sua corsa fino a sotto il settore ospite il trionfo dell'Inter anche all'Olimpico per la seconda volta e spugna all'Olimpico primo gol quest'anno di Bastoni 55esimo gol per l'Inter in Serie A tutta la panchina esultare Internazionale 4 Roma 2 e finisce dunque di fatto la partita qui e l'Inter va a vincere possiamo dare una notizia importante non succede manca un minuto un pareggio comunque ma il che vara salta fuori da questa partita Arnautovic ufficialmente è riscattato dall'Inter oggi perché? perché era il primo punto dopo il 5 febbraio esatto e quindi apprezziamo qui c'è anche l'assist di Arnautovic bravo Arnautovic e bravo anche Sanchez ma bravo anche Carlos Augusto brava soprattutto per la Roma in copertura qua ci sta Franco perché sei al 93 devi andare tutta avanti però la Roma nel Sicilio l'ha fatto all'inizio del secondo tempo la mia è una battuta ma la Roma nel secondo tempo a parte quelle due occasioni di Lukaku che abbiamo ampiamente raccontato non si è mai che è un'esercizio